L'innovazione è andare in un territorio dove ancora gli altri non sono andati, quindi è immaginarsi qualcosa che non esiste, quindi chiaramente ispirarsi a quello che è la contemporaneità, tutto quello che ci circonda, metabolizzarlo, farlo proprio e interpretarlo pensando a quello che avverrà nel futuro. L'innovazione deve essere qualcosa che non deve essere qualcosa di decorativo o legato ad un semplice esercizio stilistico, ma deve essere qualcosa che deve aiutare l'essere umano, quindi poi l'innovazione può essere di tutto, può essere dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista del design, però sicuramente, quindi dipende appunto dall'ambito in cui noi siamo, per quello che mi riguarda e che sono più legato al mondo del design, della comunicazione, innovare vuol dire proiettarsi in avanti nel creare qualcosa che ci aiuti a migliorare in maniera semplice, senza essere complicati, quindi l'innovazione deve essere molto vicina alla semplicità delle cose, quindi semplificare sicuramente. Noi creiamo innovazione, intanto siamo partiti dall'idea, quindi l'idea che è innovativa perché abbiamo utilizzato dei materiali che esistevano già, appunto è l'idea innovativa, non è diciamo che ci siamo inventati un materiale come potrebbe essere il teflo, no, è un utilizzo diverso del materiale decontestualizzato da dove era. Quindi l'innovazione del brandina è stata nel creare questo nuovo mondo che prima non c'era, che è appunto il nostro mondo del colore, della gioia, delle pensieri a testa, della vacanza, e comunicarlo attraverso un elemento legato molto al nostro territorio, appunto che è il nostro tessuto, quello presente nelle nostre brandine colorate, e abbiamo voluto fare un discorso di design e anche culturale, quindi attingendo alla nostra tradizione, alla nostra cultura, decontestualizzandola, quindi portando via il materiale da un oggetto classico che era il lettino da mare, e interpretarlo in maniera diversa attraverso appunto degli oggetti di design, di moda, rivisitandoli. Quindi le prime borse noi le realizzavamo proprio con gli stessi colori. Poi dopo due o tre anni che potevamo anche permetterci di tessere diversi metri di materiale, abbiamo iniziato a disegnare i nostri propri colori, e quindi nel materiale abbiamo portato l'innovazione delle nuove texture, abbinandole poi ai nuovi modelli e a tutto quello che è il mondo brandino. L'innovazione che poi porta il nostro materiale, la nostra idea nel territorio, non è solo legata al territorio, chiaramente è molto legata al territorio, però la stiamo esportando. Cosa vuol dire? Un turista che viene in riviera da noi e vede i nostri shop, noi li chiamiamo le botteghe brandina, rimane immediatamente folgorato, entra, sorride, capisce, realizza, qual è l'idea, acquista per portare via un pezzo del nostro territorio e regalarlo al suo ritorno. Quindi quando uno viene da noi cosa porta via? Una brandina, una confezione di piadine che comprerà in un altro posto artigianale. Noi non facciamo solo innovazione legata al territorio, ma la esportiamo questa innovazione, questa idea. Basta pensare che abbiamo tanti clienti esteri, dalla Germania, dall'Australia, dall'America, che non vedono l'ora di arrivare sul nostro riviera, appunto per passare le vacanze e per portarci via un pezzo anche del nostro territorio, appunto che è stato confezionato in una borsa. L'innovazione in futuro legata al nostro settore è sicuramente, come sempre, legata alla tecnologia, perché comunque la tecnologia condiziona i ritmi produttivi e anche le capacità tecniche nel realizzare un prodotto, perché se domani inventano una macchina, non so che uno può confezionarsi la borsa da casa, ci sono già le stampanti 3D, quello che è, però legato più al mondo della moda, quindi cose soft e così, chiaramente il mondo dell'innovazione cambia, perché è molto legato a quel tipo di tecnologia. Però bisogna stare attenti di utilizzare la tecnologia nella maniera giusta. Io credo che la cosa più importante sia da fare, e da collegare con l'innovazione, sia quello di mantenere e preservare una propria personalità, quindi di avere un forte segno distintivo sul quale lavorare, migliorarlo, in modo che le persone che ti vedono ti riconoscono immediatamente, quindi avere la tua idea, avere la tua strada, avere il tuo percorso, e poi collegare, diciamo, quindi il tuo pensiero, la tua filosofia, il tuo dove vuoi andare a tutto quello che il day by day ti presenterà. Quindi se domani arriverà una tecnologia che ci permetterà di fare delle borse che stanno su, per area trasparenti, che galleggiano, utilizzeremo il nostro percorso, il nostro know-how, la nostra personalità, e adatteremo con la tecnologia a questo tipo di utilizzo. Quindi va sempre preservata e coltivata molto la cultura della personalità, dell'idea e della soggettività, senza cadere appunto in quello che è ormai quotidiano, perché comunque basta fare una passeggiata in un centro commerciale o in una via, è tutto omologato, è tutto diventato lo stesso, senza avere un segno veramente forte di chi l'ha creato.